GF VIP 3, Stefano e Benedetta Coccole nelle notte, le urla fuori dalla casa bloccano tutto Nella notte appena trascorse nella casa del GF VIP Benedetta e Stefano sono stati avvinghiati per diverso tempo con baci, abbracci e carezze. La terza edizione del Grande Fratello VIP, video, sta regalando molte emozioni al pubblico da casa in ambito ad alcune coppie. Infatti, dopo Giulia Salemi e Francesco Monte, la coppia che fa più scalpore allinterno della casa è quella formata da Stefano e Benedetta Mazza, questultima infatti sembra proprio aver perso la testa per il giovane modello italiano, visto che continua a fare molta fatica. A stargli lontano. Tuttavia, però, dallaltra parte il modello Stefano sembra molto combattuto perché al di fuori della casa del GF VIP ha una bellissima fidanzata, Dasha, che lo sta aspettando, addirittura delle voci che circolo sul web riportano una notizia davvero clamorosa che Dasha sarebbe incinta proprio del modello. . Detto ciò, durante la notte appena passate nella casa più spiata dItalia, Stefano e Benedetta allinterno della caverna sono stati per diverso tempo molto vicini a scambiarsi coccole, carezze, baci sulle guance e abbracci. . Tuttavia, però, una cosa strana ha fatto interrompere bruscamente questi gesti di affettuosità tra i due, infatti, proprio al di fuori della casa romana, alcuni fan hanno urlato delle frasi proprio per il modello italiano. . Vediamo nel proseguo della news tutti i dettagli a riguardo. Grande fratello VIP 3, continua la passione tra Benedetta e Stefano. Come anticipato nel paragrafo sovrastante, il contatto fisico tra Benedetta e Stefano continua a far parlare moltissimi siti di cronaca rosa. . Infatti, proprio durante la notte appena trascorsa i due concorrenti del GF VIP sono stati interrotti da delle urla al di fuori dalla casa, mentre Stefano e Benedetta stavano da un po' di tempo avvinghiati tra carezze e baci. . Naturalmente questo gesto dei fan del modello hanno voluto magari salvaguardare la relazione che Stefano ha con la modella d'Ascia. Ma basteranno queste urla dai fan a cancellare la voglia di viversi tra i due che hanno all'interno della casa?. . GF VIP 2018, delle urla fuori dalla casa rivolte a Stefano bloccano le coccole con Benedetta. Stefano e Benedetta durante la notte appena trascorsa sono stati bloccati nel mentre si stavano coccolando da tempo, ad un certo punto, al di fuori dalla casa infatti si sono udite delle forti urla rivolte al modello italiano. . Naturalmente durante la diretta del GF non si sono capite bene le parole pronunciate da alcune fan, anche se alcuni siti di cronaca rosa come Gossip e TV, video virgola ha riportato queste presunte frasi, Stefano, ami Benedetta? E qualcun altro invece Stefano ritorna da d'Ascia. . . Cosa accadrà nella nuova puntata di questa sera del Grande Fratello Vitt? Ilary e Alfonso toccheranno questo argomento? .